Allora, Paola, visto che tu sei di Alghero e prima ti ho parlato di Maria Carta, devi sapere che io ho incontrato Maria Carta per la prima volta a Icnos nel 1993. C'era Icnos fatto a Sedilo, andai là, mi chiamarono e la parola magica che usavo, io non avevo voglia perché ero stanco, ero nel mezzo del Roxy Bar, però la parola magica che usava Andrea Parodi fu c'è Maria Carta. Andrea Parodi, stai citando comunque due artisti che mi hanno fatto conoscere a Sardegna. Allora io andai a Icnos e conobbi Maria Carta, fra l'altro Maria Carta quell'anno annunciò che aveva un tumore e aveva chiesto di andare a Sanremo, sfruttarono, non dico chi, la presenza di Maria Carta per raccontare se hai il male, fa sempre il commuovere, però a Sanremo non la portarono. Lei appena mi vide mi disse che lei voleva andare a Sanremo perché io siccome facevo programmi dietro e quindi Sanremo volevo incontrarmi per farsi intervistare da me. Allora gli dice ok, tu dai da me, tu vieni con me, ti porto in un centro dove con gli oli essenziali e un'alimentazione ti aiutano, non dico che guarirai però. In effetti lei prese l'aero, venne, la portai in questo luogo, uso questi prodotti, poi andammo in Sardegna, la portai in Sardegna a coda a cavallo. Il 10 di agosto del 1993 organizziamo per lei la Notte delle Stelle. A quell'ora, mezzanotte, c'erano tutte le radio che mandarono a Badà, contemporaneamente le radio a Sardegna. Venne Andrea Parodi, lei tornò a cantare, anche perché grazie a questa alimentazione vegana e a questi oli essenziali con cui la massaggiare, venne lo giù, i massaggiatori e i porti, lei stava rinascendo. Finite le vacanze, fra l'altro la portai col mio gozzetto da Tavolara, perché lei mi disse che tutte le volte che lei lasciava la Sardegna la salutava guardando Tavolara dall'aereo e tutte le volte che rientrava sentiva il bentornato guardando quest'isola Tavolara. E la portai sotto Tavolare, per lei fu una cosa incredibile, filmai tutto. Ti prometto, questi video non sono da nessuna parte perché non gliene frega niente a nessuno di far vedere la cultura, quindi non ho nessuno che mi possa per me di mettermi lì a montare questa roba. o che voglia questi video. Però, andiamo avanti. Dopodiché cosa succede? Succede che lei torna a Roma, torna a Roma e trasgredisce, torna a Roma e scopre che dei tre metastasi al fegato, due sono sparite e una si è ridotta da tre a un centimetro. Quindi stava guarendo, solo che lei non voleva guarire, perché i motivi per cui anche psicologica era venuto il tumore, il suo uomo le aveva lasciate per una più giovane, lei era molto innamorata e quindi praticamente si lasciava andare. Praticamente aveva fatto le valigie per abbandonare questo mondo, al che io mi sa, mi arrabbiai molto con lei e non la chiamai. Un giorno stavo per partire per Alghero in aereo perché andavo con Andrea, però di una cosa di beneficenza. Sto per rimarcarmi ad Alghero, mi viene in mente che lei mi disse un giorno ti voglio portare ad Alghero perché Alghero è la città che io preferisco. Allora dico, eh vabbè ma chi se ne frega dai la chiamo. L'ho chiamata, mi ha risposto la sorella e mi ha detto, guarda che Maria Carta sta molto male. E dico, ah non riesce a passarmi, dice no. Dico fai una cosa, se si sveglia dille che la saluto. Mi imbarco sull'aereo, mi danno un bicchiere di acqua, era molto freddo, allora lo lascio sul tavolino e mi appoggio al finestrino per dormire perché ero molto stanco. A un certo punto vengo svegliato dal bicchiere d'acqua che mi cade addosso e l'aereo non aveva sobbalzato. Io ho guardato e ho detto, anche il vicino si è stupito e dice come ha fatto quel bicchiere a cadere? E io ho detto a Maria Carta che mi saluta. Sono atterrato, Andrea Parodi mi ha detto che era morta. Mamma. Esattamente nel momento in cui il bicchiere di acqua mi è caduto addosso. Mi stai facendo commuovere Red, questo è una, io credo molto in queste coincidenze. Poi dopo ti dirò altre cose, ti farò vedere anche dei video di lei che va in trans in un'altra dimensione, all'Uraghe di Santo Antinio e su Monte San Giovanni. Ci tenevo perché ti volevo ringraziare per avermi portato qui queste ragazze e per aver aderito a questa cosa per le donne. No, grazie a voi. Questo racconto è il mio modo per ringraziarti. Grazie davvero, posso darti un bacio? Perché lei è di Alghero, è sarda, e sa di che cosa stiamo parlando.